Un autunno che preoccupa soprattutto sul fronte scuola. Sulla questione Covid-19 torna a parlare il sindaco Ernesto Tedesco che insieme alla Task Force richiede massima collaborazione alla città in vista dell'avvicinarsi del periodo invernale. Il servizio. Un autunno sul quale porre la massima attenzione al fine di evitare, almeno nella nostra comunità, i ripetersi di situazioni difficili come quelle vissute nel periodo primaverile di quest'anno. Dopo la pausa estiva nella quale si era tornati alla pseudonormalità, forse più a livello psicologico che sanitario, il Covid-19 torna a farsi sentire in modo significativo a Civitavecchia. In primis per il ritorno dei decessi, che ieri, come annunciato nel consueto report quotidiano dell'Asel Roma 4, hanno colpito un 75enne della nostra città, malato oncologico. E poi per l'ingresso del virus all'interno degli istituti scolastici, con il primo caso che si è registrato al liceo scientifico e linguistico Galileo Galilei, dove una ragazza è risultata positiva ai tamponi. Fortunatamente la problematica sembra, almeno al momento, contenuta, visto che tutti i compagni di classe della giovane si sono sottoposti al tampone rapido al San Paolo e sono risultati tutti negativi. Il gruppo è comunque rimasto in isolamento fiduciario, anche perché la positività potrebbe manifestarsi non subito. Un caso per ora che non deve certo sorprendere, visto che sappiamo con certezza che il virus in città circola, come testimoniano 17 casi di utori attivi sul territorio comunale, e visto che all'interno delle scuole, seppur con tutte le precauzioni del caso, transitano tantissimi ragazzi, aumentando quindi la possibilità di contagio. L'ASRA Roma 4 ha messo in pratica per la prima volta il protocollo da seguire in questi casi e tutto è sembrato funzionare nel migliore dei modi. Nulla di sorprendente, dicevamo, perché probabilmente sarà questo l'andamento dell'anno scolastico, tra quarantenne a turnazione nelle varie classi sulla base di eventuali casi di positività, lezioni a distanza in caso di assenze prolungate e forzate dai banchi di scuola, e tour di test rapidi da parte della stessa azienda sanitaria, con l'esordio per Civitavecchia fissato per venerdì al liceo classico Guglielmotti. E proprio in questa fase, delicata a livello stagionale, il sindaco Ernesto Redesco è tornato a parlare, insieme ai membri della Task Force Covid-19, creata lo scorso anno nel pieno della crisi pandemica. Il primo cittadino ha elogiato il lavoro messo in campo nel periodo estivo, sia nella gestione dei flussi turistici, con il drive-in per i tamponi al porto, sia nella preparazione dell'avvio delle scuole. I Civitavecchiesi fino ad oggi hanno tenuto un comportamento serio e coscienzioso, ha affermato Tedesco, rispettando con grande senso di responsabilità tutte le misure imposte, a tutela della salute pubblica, ma visto che andiamo verso la stagione invernale, con il conseguente abbassamento della temperatura e l'aumento dei malanni stagionali che potrebbero favorire la diffusione del virus, rinnovo l'appello a rispetto delle precauzioni fondamentali. L'amministrazione tedesco, oltre gli obblighi di legge e di pubblicazione sul sito del Comune, non sente la necessità di comunicare né alla stampa né tramite i social, neanche le azioni positive come l'assunzione di un nuovo dirigente o la pratica sportiva gratuita per 70 ragazzi. È la mara conclusione del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle in merito ai nuovi bandi apparsi sul sito del Comune di Civitavecchia. In particolare è stato pubblicato ieri un avviso per la selezione di un dirigente ai sensi dell'articolo 110 del Tuel per il servizio urbanistica, edilizia, patrimonio e demanio a cui si potrà partecipare entro il prossimo 13 ottobre. La selezione, spiegano i grillini, verrà effettuata tramite colloqui con il segretario generale Pompeo Savarino, che poi sottoporà al sindaco una rosa di candidati tramite una relazione e senza una graduatoria. La scelta della persona da assumere verrà effettuata direttamente dal sindaco tedesco con provvedimento motivato. Per quel che riguarda l'avviso per l'avvio alla pratica sportiva gratuita negli impianti sportivi comunali di un massimo di 70 minori in base all'Ise, concludono i 5 Stelle, il bando deriva dalle convenzioni per la concessione degli impianti sportivi stipulato per la maggior parte sotto la nostra amministrazione 5 Stelle. Continua il nostro tour all'interno delle scuole cittadine. Ad oltre due settimane dall'inizio delle lezioni siamo andati questa volta all'Istituto Stendhal dove la dirigente scolastica dell'Istituto, Stefania Tinti, ci ha parlato di questi primi giorni di scuola e della preparazione necessaria durante l'estate. Sentiamo l'intervista a parte dello speciale che andrà in onda stasera alle 20.45 al termine del nostro telegiornale. Non ci possiamo nascondere che effettivamente il periodo per le scuole è complesso. Ci sono tanti timori, la realtà della scuola è così popolosa che sicuramente conviviamo con una sorta di rischio quotidiano. Sicuramente una situazione molto delicata è quella della disabilità. Noi qui all'Istituto Stendhal pensiamo che raccogliamo quasi tutta l'utenza fragile di un territorio piuttosto vasto. Al momento noi siamo riusciti a coprire circa 20 cattedre e quindi abbiamo ancora 9 cattedre da coprire con supplenza e in queste giornate stanno convocando. Per quanto riguarda le altre discipline, le convocazioni sono in queste giornate. Il 30 riprenderanno le convocazioni della classe di concorsa 0-12 che per noi, insomma, tecnicamente diciamo per semplificare l'italiano. Ecco, forse sull'italiano, sulla matematica. Sono adesso le convocazioni che stanno facendo. Io non ho desiderato in realtà un rinvio. Cioè, se mi si chiede, se io speravo in un rinvio, devo dire con molta franchezza forse no. Cioè, avevo voglia di provare, di capire fino a che punto eravamo pronti ad affrontare una situazione del genere. Certo con prudenza, nel senso che ovviamente abbiamo iniziato con un orario ridotto, però già da questa settimana, ma anche dalla precedente, siamo riusciti a sistemare tutti i nostri ragazzi. Devo dire che questa è stata un'estate un po' anomala perché noi ci siamo trovati dei fondi di rilancio ben volentieri, voglio dire, accertati nel nostro bilancio, però con la responsabilità di spenderli, spenderli nel modo giusto e spenderli per migliorare l'organizzazione della scuola. Abbiamo fatto delle scelte e quindi credo che queste scelte si siano rivelate vincenti. Per esempio la pulizia della scuola, che comunque è stata realizzata con la diretta collaborazione della città metropolitana, che ha rimesso a nuovo tutte le nostre classi, spese per fare pulizie a fondo, spese ad esempio per comprare in una situazione di emergenza 200 banchi, 200 sedie, 50 poltroncine per i docenti. Io parlo anche delle piccole cose che a volte mancano e per cui a volte non abbiamo i fondi. Gli attaccapanni, tavoli nuovi per la sala bar, macchine per la pulizia. Alle 14 circa di ieri, vigili del fuoco di Civitavecchia, oltre al soccorso ordinario, sono intervenuti in via Campania, lato edificio scolastico a Nio Galice, per il salvataggio di un piccolo gatto. Una collaboratrice scolastica in servizio presso la scuola, udendo da alcune ore, mia golì provenire dal cofano anteriore di un'autovettura in sosta nei pressi dell'edificio scolastico, ha allertato i soccorsi. I pompieri, giunti sul posto in presenza del proprietario dell'auto, hanno individuato il gattino nel vano motore dell'automezzo. L'operazione di estrazione del micio si è rivelata abbastanza impegnativa, in quanto il felino si era infilato nella parte bassa del motore, in un punto di difficile accesso. Per recuperarlo è stato necessario anche alzare la parte anteriore dell'auto, con l'ausilio di un cuscino ad aria compressa, in dotazione ai vigili del fuoco e smontare un carter di protezione del motore. Mancano meno di due mesi alla chance mondiale di Michael Magnesi. Il pugile, allenato dal maestro Mario Massai, salirà sul ring il 6 novembre per l'atteso appuntamento iridato dei Super Piuma a fondi contro Kini Gamazzi. In questi giorni, Long Wolf si sta continuando ad allenare nella storica palestra di Via Borghese per arrivare al top della condizione per l'attesissimo match. Ascoltiamo le interviste. Michael Magnesi e Mario Massai si sa adesso sia la data che il luogo dell'incontro e ovviamente anche il nome dello sfidante. Quindi si può preparare tutto quanto a vista di questo incontro importantissimo per te? Eh sì, sì. Adesso è tutto ufficiale. Il 6 novembre a fondi contro un ruandese, Patrick Kini Gamazzi. E' parato anche il nove a qui. Siamo prontissimi già. Sì, sì. E sarà un match duro perché l'avversario è un fuggile che boxa sulla corta e in media distanza quindi uscirà un match pieno di scintille. Maestro, si dice che sarà un match anche di alto tenore non solo per lo spettacolo visto che si combatte per un mondiale ma anche dal punto di vista tecnico? Beh, dal punto di vista tecnico noi ci stiamo preparando. Michael è un fuggile volenteroso è un fuggile che dà tutto quando combatte non temiamo nessuno questo è un avversario come tanti altri che abbiamo affrontato anche se è di un gradino molto superiore all'ultimo affrontato noi ce la stiamo mettendo tutta. Michael è un fuggile che fa molto sorrille che dà molto da fare a tutti e dunque la carta nostra è quella. Due mesi di passione è di sacrificio per poter cercare di portare a casa questa cintura mondiale. Certo ma siamo pienamente fiduciosi su questo e sicuramente con Michael non mi deluderà ce la facciamo ce la facciamo. Già avete guardato qualche video Michael avete visto qualcosa dell'avversario? Sì su internet ci sono pochi video dell'avversario ci sta pensando il maestro ne abbiamo trovati due ne abbiamo visto già che è un fuggile come ti dicevo che lavora sulla corte e media distanza quindi adesso il maestro se lo studierà bene e poi preparare il match. Vorrei ringraziare il comune di Fondi che mi ha dato l'opportunità di disputare questo titolo lì a Fondi tutta l'aggiunta comunale il mio ormai amico fraterno e sponsor Le Cinema Caffè di Roberto Masserone Davide Buccioni che mi ha dato questa opportunità e tutti quanti coloro che mi stanno vicino. e attenzione non ci dimentichiamo Silvio Branco che ci dà una mano sulla preparazione della mattina è importantissimo questo. Inizio di stagione sicuramente poco fortunato per il Civitavecchia non stiamo parlando dei risultati dei nerazzurri ottenuti nelle prime due gare ufficiali ma dei tanti infortunati in rosa. Nella gara di domenica scorsa a Cerveteri il tecnico Caputo ha dovuto fare a meno di due pezzi da 90 Ruggero e Pastorelli il primo ha accusato un possibile stiramento e sembra ne avrà per circa un mese mentre per il secondo si parla di distrazione al collaterale con tempi di recupero da valutare. A loro si sono aggiunti converso problema alla spalla che lo ha costretto ad uscire nel primo tempo dell'ultimo match e Funari che invece con il Cerveteri è entrato nella ripresa ma anche lui non è al meglio. Per fortuna in via di guarigione c'è Serpieri che già domenica contro il Fiumicino potrebbe tornare in campo dal primo minuto. Tutto pronto per la quarta edizione del Città di Civitavecchia di Tennis in Carrozzina organizzato dal DLF Tennis e che si svolgerà ai campi di Viale Guido Bacelli grazie anche al sostegno della fondazione Caricib e di Enel. Il torneo si disputerà da domani a domenica con la categoria Men, Quad e Don sia per i singolari che per il doppio. In campo molti atleti che sono entro i primi 50 del ranking mondiale. Questo pomeriggio alle 16 alla presenza del giudice arbitro Francesco Nardia del direttore del torneo Vincenzo Bottone ci sarà la definizione dei tabelloni e da partire dalle 9 di domani si darà inizio al torneo. Lo spettacolo è assicurato dichiarano gli organizzatori. Vi invitiamo a seguirci anche sui nostri profili social sulla pagina Facebook e sul canale YouTube TRC Giornale e inoltre vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione è anche sul sito www.trcgiornale.it 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 Grazie a tutti.